Musica Musica Senza l'ambiente non si vive, senza l'ambiente non si programma niente, è il nostro futuro, noi stiamo rifugendo un piarente e siamo un massimo responsabile, questo governo è il grande responsabile per le politiche ambientali dove non fa niente, non fa cambiare niente, questo governo è il vinico dell'ambiente, è il vinico dell'ambiente. Ma poi non sarebbe il caso che cambiasse la natura sociale del sovrano, finora a battere moneta sono i banchieri, i capitalisti, i grandi industriali, occorre che un governo dei lavoratori dia ai lavoratori la sovranità politica e quindi la sovranità monetaria.